una calabria con la coppola che ancora si muove a dorso di mulo una calabria che infila e pollici sotto le bretelle e siede nella piazza del paese una calabria che incredibilmente all'accento siciliano e sa fare una sola cosa coltivare agrumi mangiare agrumi amoreggiare con gli agrumi e questa la calabria che emerge dal corto di gabriele muccino commissionato dalla regione per un costo di un milione e 700 mila euro e travolto dalle critiche sui social il video finora inedito è stato postato sul suo profilo social dal consigliere regionale gianluca gallo che ha così deciso di rompere l'embargo che la stessa regione aveva imposto dopo l'anteprima al festival del cinema di roma il filo conduttore rappresentato dalla storia d'amore vera tra i due protagonisti raul bova e la compagna rossio muñoz morales modella e conduttrice spagnola alla quale legato dal 2011 dove vuoi che ti porto mare montagna e mentre il vento gli scompiglia i capelli portandosi via anche il congiuntivo comincia il breve viaggio non prima però di essere passati a salutare gli amici che sono rimasti al paesello quelli con la coppola appunto seduti in piazza in pieno giorno evidentemente senza altro da fare buongiorno signora le portate a vedere dove crescono le clementine e i cedri ma lei vorrà vedere il mare al mare la devi portare e mare sia un mare verde così fosforescente e alieno che all'orizzonte non stonerebbero due lune e un pianeta con gli anelli il tema musicale realizzato dal compositore siciliano paolo buonvino che da sempre collabora con muccino è forse la cosa più bella e quella che resta più impressa in chi guarda il video immagini suoni e sensazioni che forse faranno presa su turisti stranieri maturi e alla ricerca di quel pittoresco che all'estero ancora oggi purtroppo finisce per coincidere con italia pizza mafia e mandolino enrico de giro all'uomo per la c news 24